Buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere così numerosi, siamo molto contenti di così tanta partecipazione, segno che abbiamo letto un interesse vero della città che avevamo già visto l'anno scorso per la prima rassegna di caleidoscopio, che anch'essa aveva ad oggetto i temi europei, che anche stasera cominceremo a trattare stasera, e che abbiamo per questo motivo, vista la grande domanda e anche il grande interesse che hanno sollevato le discussioni dell'anno scorso, abbiamo ritenuto opportuno e giusto confermare anche quest'anno. Io credo che le motivazioni per discutere e parlare e approfondire ciò che significa l'Europa oggi siano moltissime, ma diciamo che una di quelle che ci ha ispirato di più è una città che citerò, Marta Dassù, con una frase che in qualche modo rappresenta lo spirito su cui ci siamo mossi, per cercare di in qualche modo comporre un quadro che fosse il più possibile vasto anche nell'ambito delle persone che ospiteremo nel tempo, che cito, leggo, da un punto di vista geopolitico il nostro è il paese più esposto alle tensioni da sud, basti pensare ai flussi migratori, da un punto di vista economico ed energetico, ha parecchio da perdere di fronte a un deterioramento secco dei rapporti UE-Russia, se c'è un paese per cui la politica estera europea sarebbe una necessità, non un lusso, questo è precisamente l'Italia, sembra una frase di oggi, in realtà credo l'abbia scritta una decina di anni fa, ma penso che rappresenti un orizzonte molto chiaro di ciò di cui andremo a discutere stasera, pertanto grazie a tutti e buona serata. Grazie al Vice Sindaco, buonasera a tutti, fa sempre piacere vedere una sala piena, questa veramente strapiena, significa che i temi sono importanti, significa che abbiamo due personalità di grandissimo rilievo, mi fa molto piacere, sono onorato di essere a questo tavolo, non ha bisogno di presentazione, ma molto brevemente Carlo Cottarelli è uno degli economisti più noti in Italia, ha passato al Fondo Monetario, divenne famoso per la famigerata spending review in questo tavolo, è un'altra parte, è un'altra parte veramente strapiena, significa che il Paese, e abbiamo dei trascorsi di governo anche per Marta Dassu, sottosegretario agli affari esteri con i governi Monti, eletta, editorialista, storica, politologa, entrambi li potete leggere spesso dalle colonne di Repubblica. Il tema dell'Europa è un tema vasto, cercheremo di toccare qualche punto, di entrare poi nello specifico su alcuni temi che sono di strettissima attualità, pensiamo all'agricoltura. Io chiederei però prima una panoramica ai nostri ospiti, ovvero stiamo assistendo a una frammentazione del vecchio ordine mondiale, stanno cambiando molte cose sullo sfondo della rivalità, chiamiamola così, in modo riduttivo tra Cina e Stati Uniti, ci sono delle tensioni, pensiamo solamente ai BRICS, cosa sono diventati, di là della follia russa negli ultimi due anni, con l'allargamento a 11 lo scorso anno, pensiamo a forze locali, poteri locali come può essere la Turchia che stanno esercitando delle egemonie in aree particolari, lo scacchiere geopolitico si è molto molto complicato e forse il rischio è quello che l'Europa, che rappresenta la nostra storia, la nostra culla, diventi in qualche modo un vaso di coccio tra vasi di ferro, anche in termini economici, non dimentichiamo che negli ultimi vent'anni l'Europa ha perso tanto di quote di mercato in termini economici rispetto alla Cina, per esempio, in termini di valore aggiunto siamo scesi intorno al 14% in una ventina d'anni, quando la Cina è volata dall'8 al 27. Ecco, la mia prima domanda, partiamo, siamo d'accordo così, non manco di cavalleria dal professor Cottarelli, che tipo di Europa troviamo in un contesto così frammentato e così diverso? Allora, buonasera, prima di parlare dell'Europa c'è questa considerazione, partendo dalle sue considerazioni, di paesi avanzati, quelli che sono stati i tradizionali paesi a democrazia liberal-democratica, quindi fondamentalmente i G7 più i paesi simili, un po' più piccoli, da un lato e dall'altro i paesi emergenti, paesi emergenti che hanno anche politicamente una natura diversa. È difficile pensare che non ci possano essere problemi politici, e speriamo non bellici, quando i pesi economici delle nazioni cambiano così rapidamente. Non c'è stato un periodo, credo, non ci sia stato un periodo nella storia in cui i pesi economici non siano cambiati così rapidamente. Già attualmente il peso economico dei BRICS in termini di prodotto interno lordo è più grande del prodotto interno lordo, cioè la produzione in termini reali, dei G7. I 5 BRICS, il prodotto interno lordo misurato, adesso non sto entrare nei dettagli, ma diciamo in termini reali, in termini di cose che si producono, dei 5 BRICS è, a memoria ma credo più o meno di essere corretto, circa 56 trilioni di dollari contro i 52 trilioni di dollari dei G7. E i tassi di crescita sono molto diversi. Questo come conseguenza di un qualche cosa che forse noi non percepiamo bene, cioè il fatto che il mondo occidentale aveva mantenuto negli ultimi due secoli la sua leadership in conseguenza della capacità di innovare scientificamente e tecnologicamente più rapidamente del resto del mondo e di conseguenza di avere un tasso di crescita della produttività, cioè quanto produci in un'ora di lavoro, molto più alto di quello di tutto il resto del mondo. Questa cosa la stiamo perdendo, non è che la stiamo perdendo in Italia o in Europa, gli Stati Uniti stanno perdendo questa cosa. Il tasso di crescita della produttività legata al progresso tecnico negli Stati Uniti negli ultimi 25 anni è stato dello 0,4% che è il tasso di crescita più basso dell'ultimo secolo e mezzo. E questa capacità invece di crescere produttivamente e tecnologicamente più rapidamente che nel resto del mondo era la cosa che aveva consentito al mondo occidentale di, tra virgolette, dominare economicamente e anche politicamente gli ultimi due secoli della storia del globo. Questa cosa sta sparendo. Se poi, dopo faccio un caveat su questo, se poi andiamo a prendere la divisione tra Stati Uniti e i paesi dell'Europa, quello che vediamo è che Stati Uniti almeno sono appunto uniti e noi in Europa invece siamo ancora molto disuniti, ogni paese. Adesso poi la tendenza di andare sempre più verso un'Europa delle nazioni dove ci si mette insieme a fare insieme le cose che conviene o che piace fare insieme, tipo fossimo il club degli scacchi, senza puntare a un obiettivo di unione, di maggiore unione verso il lungo periodo è la cosa che mi preoccupa di più. Quindi la situazione attuale dell'Europa è una situazione in cui tendenzialmente sembra che non andiamo verso una maggiore unità, almeno le prossime elezioni saranno decisive da questo punto di vista. Prevaranno quelli che hanno un progetto politico verso una, seppure con i tempi biblici che ci sono in Europa, che vanno verso una maggiore Unione Europea o prevarranno quelli che vogliono l'Europa delle nazioni. Se non cambia questa situazione sempre più l'Europa conterà poco nel mondo moderno. Per quanto riguarda il mondo occidentale e nel suo complesso vediamo se adesso con l'intelligenza artificiale, se ne parla tanto, sarà in grado di cambiare qualcosa. Gli Stati Uniti stanno investendo, è l'area del mondo che sta investendo più di ogni altro nell'intelligenza artificiale, più anche, non soltanto dell'Europa, ma anche della Cina. Noi stiamo utilizzando, le nostre imprese stanno utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiale, ma in termini di investimenti sono gli Stati Uniti che sono molto più avanti di noi. Grazie mille anche per aver già toccato alcuni dei temi che saranno ricorrenti. Sicuramente le divisioni all'interno dell'Europa e sicuramente le differenze tra quello che ormai possiamo considerare uno scontro tra Occidente e il resto del mondo, giustamente per soccontrare allargato dall'Europa agli Stati Uniti il discorso. Rivolgo anche a Marta D'Assussi la stessa domanda. Per vivacizzare Carlo, diciamo che non sono proprio così d'accordo, perché prima di tutto il mondo che noi chiamiamo per convenzione, per finzione, il sud globale, in realtà non è un mondo coeso. Anche il raggruppamento dei BRICS che aspira ad avere un peso maggiore non è in grado di creare un ordine internazionale alternativo a quello che abbiamo avuto fino adesso. E se ci pensate bene, la grande crescita della Cina, che è stata assolutamente clamorosa, non solo sta raggiungendo un limite, questo magari ne possiamo discutere, ma la mia opinione è che la Cina sia giunta alla fine del suo miracolo economico, ma quel miracolo economico della Cina è stato largamente favorito da noi, e cioè dall'infrastruttura della vecchia globalizzazione, dall'ingresso della Cina nel famoso WTO che oggi è in una crisi terrificante. Non vorrei che dessimo l'impressione, insomma, che gli Stati Uniti in particolare siano in un assoluto declino. Non credo sia vero. Il Fondo Monetario Internazionale, in cui tu hai lavorato nelle sue ultime stime, dice che come effetto del post-Covid in realtà è aumentata la divergenza fra mondo occidentale e mondo non occidentale, ma a favore di un Paese come gli Stati Uniti, che vive un declino relativo. È chiaro che il peso assoluto degli Stati Uniti si è ridotto, crescendo le altre economie, ma dal punto di vista relativo l'America in realtà regge molto bene anche quest'anno, ad esempio con una crescita che è fra il 2,5% e il 3%, secondo le previsioni. L'inflazione è sotto controllo tutto sommato. C'è l'attesa di una riduzione dei tassi. Quindi io non sono pessimista sul rapporto fra Stati Uniti e Cina. Credo che la tanto decantata idea del sorpasso cinese sull'America non si verificherà, non si verificherà a breve termine. Credo che la Cina viva una crisi interna molto notevole. La Cina ha il problema di innescare una fase completamente diversa del suo sviluppo. Ha avuto una fase di crescita estensiva, trainata dagli investimenti pubblici, ma ha già dei problemi, ad esempio come l'invecchiamento della popolazione. Ha problemi molto notevoli di disoccupazione giovanile, così notevoli che le statistiche non vengono più pubblicate, ad esempio. La Cina si regge su un famoso compromesso politico che vale dall'era di Deng Xiaoping, dalle grandi riforme in poi. Voi vi arricchite e però state fuori dalla politica. Questo è stato il compromesso che un partito comunista confuciano, prima che comunista, ha proposto alla sua popolazione. Ora nel momento in cui questa crescita così forte cala, perché la Cina continua a crescere naturalmente, ma è una crescita attorno al 4%, molto diverso dai tassi di crescita di prima. Tenere insieme il Paese non è facilissimo e quello che dicono i cinesi, più intelligenti se volete, più acuti, è sempre speriamo di riuscire a diventare ricchi prima di diventare vecchi. C'è un grosso problema di aging, di invecchiamento della popolazione anche in Cina. E questo mi porta a sottolineare un secondo punto, che è questo. Questa trasformazione che stiamo vivendo, che è la fine del vecchio ordine occidentale, lo diceva molto bene il nostro moderatore, ma non la crescita già o l'affermarsi già di un nuovo ordine, ci mette in quelle tipiche situazioni di interregno del sistema internazionale che sono sempre molto rischiose, perché sono da questa fluttuazione del potere internazionale che sono nate le guerre del passato. Quindi è per questo che siamo tutti molto preoccupati, perché siamo in una fase di disordine internazionale in cui il vecchio egemone, e cioè gli Stati Uniti fondamentalmente con il supporto dell'Europa, non è più in grado e non è neanche più così interessato, in particolare se un tipo come Trump vincesse le elezioni americane, che contano di più, devo dire, di quelli europei in questo caso, e decidessero di disimpegnarsi, cioè di non avere voglia di gestire il sistema nel suo insieme. Questo va combinato a due grandi rivoluzioni che sono importantissime, non le citiamo quasi mai. La prima è la rivoluzione demografica. Viviamo realmente in una fase di rivoluzione demografica che è data dal fatto che le nostre popolazioni sono quasi tutte in declino, l'unica area che cresce decisamente è l'Africa subsahariana. Per il resto c'è una curva decrescente della popolazione mondiale, non solo da noi, ma, vi dicevo prima, anche in Cina o anche in una parte di questi paesi dei BRICS. Quindi il declino relativo della popolazione, l'Economist parlava settimana di fa che stiamo passando dal baby boom al baby boost, cioè al declino della crescita della popolazione, è una prima grande rivoluzione. La seconda, già citata da Carlo, è la rivoluzione tecnologica. La competizione tra la potenza che si è affermata dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, gli Stati Uniti e la Cina, non sarà una competizione tradizionale combattuta con metodi tradizionali, sarà prima di tutto una guerra tecnologica, lo è già. Grandi investimenti nell'intelligenza artificiale da entrambe le parti, lotta sulle catene del valore, come sappiamo, sui microprocessori. Perché è così importante Taiwan? Perché è il posto dove si producono i chip più importanti del mondo. Quindi è una guerra tecnologica in parte visibile, in parte invisibile e io condivido molto quello che lei diceva. Il grande problema è che l'Europa non riesca a giocare con questi stessi strumenti con cui giocano paesi così diversi fra loro, come gli Stati Uniti e la Cina. Ma per concludere, ed andando in modo molto rapido, a me l'America sembra economicamente più forte di quanto in genere si dica, anche se politicamente debole e molto polarizzata, e la Cina mi sembra più vulnerabile e meno forte economicamente di quanto normalmente si pensi. Posso chiarire una cosa? Prego. No, ma è in termini relativi che io parlo, rispetto al passato. Cioè nel periodo d'oro della rivoluzione tecnologica negli Stati Uniti, della rivoluzione della produttività, tra il 1920 e il 1970, quel cinquantennio, la produttività americana dovuta al progresso tecnologico, quella parte della produttività dovuta alla maggiore tecnologia, cresceva dal 2% all'anno. Adesso siamo negli Stati Uniti, quindi non nell'Italia che c'è tutti questi problemi, allo 0,4% all'anno. È come se invece di guidare un'auto a 100 km all'ora state guidando, l'America sta guidando un'auto a 20 km all'ora. Allo stesso tempo la Cina sta in crisi? Sì, insomma, cresce del 4% l'anno, 5% l'anno quest'anno. Sì, ma cresceva del 10%. Eh, ma per forza cresceva del 10%. Quando si parte da un'economia che è piccola, anche un piccolo guadagno percentualmente è molto alto. Più l'economia cresce, è naturale che il tasso di crescita si riduca. Fatto sta che loro hanno ancora centinaia di milioni di persone da spostare dalle campagne alle città. Non è detto che lo facciano, ma se lo fanno, allora la Cina da sola, 1,4 miliardi di persone, è più grande dei G7, che sono 800 milioni di persone. Un paese, per questo uno dice, beh sì, non saranno uniti, ma ne basta uno. È l'India lo stesso, un altro 1,4 miliardi di persone. Poi sarà io che sono preoccupato perché io sono interista, l'Inter di proprietà cinese, quindi capite ogni volta che ho istintivamente la preoccupazione che saremmo dominati dalla Cina. Però insomma la realtà è che non c'è nessun motivo oggettivo per cui la produttività in Cina, spostando questi centinaia di milioni di persone della campagna e della città, non debba crescere più rapidamente. La speranza dobbiamo sempre averla. La speranza dobbiamo averla, cioè quella di dire l'Europa e gli Stati Uniti, rimbocchiamoci le maniche. Ma ecco, quello intendevo dire è questo, rimbocchiamoci le maniche perché la tendenza non è particolarmente favorevole di lungo periodo. Ecco, grazie, bello, il dibattito si è già acceso. Io riparto da due spunti delle parole di Marta Dassù. Intanto il fatto che effettivamente il Global South non è un'entità unita. abbiamo tante realtà nel mondo che lo rendono più complicato e quindi probabilmente anche più difficile per l'Europa perdere o per il mondo occidentale perdere la sua centralità. E la Cina, è interessante anche il discorso, dire che potrebbe essere, c'è chi dice a fine corsa, chi dice giustamente che ha rallentato perché non avrebbe potuto mantenere quei ritmi di crescita. Ma al di là di questo, che il mondo si è frammentato, che la Cina rallenti o meno, l'Europa credo che riesca a farsi male anche da sola. Butto lì un paio di temi che sono abbastanza attuali. Abbiamo nominato le Information Technology, l'intelligenza artificiale, l'altra grande evoluzione di questo periodo è la transizione energetica, il traguardo verso l'agoniata sostenibilità. Ci sono due punti che a me sembrano molto simili tra loro, nei quali l'Europa va un po' a tentoni. Uno è il mondo dell'agricoltura, ed è proprio il tema più attuale di questi giorni. L'altro è quello dell'automotive. In entrambi i casi la sensazione è che si proceda più per ideologie, per dogmi, pur mossi da nobili intenti, senza dare un accompagnamento coerente al passaggio verso l'auto elettrica o verso un'agricoltura biologica. Avete anche voi questa impressione? E se è così, perché l'Europa non riesce ad avere un approccio più realistico? Perché è la struttura dell'Unione Europea che non glielo permette? In Parlamento Europeo è una cosa complicata, come sapete. E adesso non c'è dubbio che l'elemento verde nel Parlamento Europeo è molto forte, fa sentire la voce, quindi imprime la sua pressione sulle decisioni che vengono prese. L'ultima essendo che adesso sì, noi dobbiamo azzerare le emissioni entro il 2050 in Europa, impegno preso per ora anche dagli Stati Uniti, vediamo poi quando succede quando arriva Trump, però adesso abbiamo anche deciso che al 90% l'obiettivo deve essere raggiunto entro il 2040, quindi dieci anni prima. Vedremo se sarà davvero così. Però diciamo che abbiamo un problema effettivo, perché il problema del riscaldamento globale non è una roba da poco. E anche se noi non ci preoccupiamo del riscaldamento globale, perché noi tanto siamo, l'Europa conta soltanto per l'9% delle emissioni globali, perché preoccuparci. Avere un sistema di riscaldamento delle nostre case e avere automobili che buttano fuori un po' meno di gas, sinceramente dovremmo farlo soprattutto noi padani, noi che viviamo nella pianura padana, anche per altri motivi, perché queste emissioni riguardano soltanto la CO2, riguardano anche le polveri sottili. Allora io sono un po' preoccupato perché questa roba non entra nel polmone ai cinesi, le polveri sottili entrano nei nostri polmoni. E noi sappiamo che delle 30 province più inquinate dell'Europa per emissioni di polveri sottili, metà stanno in Italia e tutte, tranne i terni, stanno nella pianura padana. Io sono di Cremona, Cremona è la seconda città per polveri sottili, provincia per polveri sottili più inquinata d'Europa. Mia moglie è di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, che è la quarta, quindi siamo messi bene in famiglia da questo punto di vista. Ora, detto tutto questo, è chiaro che non bisogna esagerare. È chiaro, non preoccupiamoci troppo di quanto valgono le direttive europee che dicono che entro il 2033 non ci saranno più le macchine a combustione interna, perché noi siamo il Paese che la Bolkenstein, approvata nel 2005, manco l'abbiamo approvata, sappiamo bene quali problemi ci sono, siamo il Paese che le direttive europee le violano regolarmente e siamo penalizzati, sì, il costo di aver violato le direttive europee è di un miliardo, ma non un miliardo all'anno, su un bilancio dello Stato che è di mille miliardi all'anno. Un miliardo è il costo cumulato in tutti questi decenni di aver violato le direttive europee, quindi non spaventiamoci troppo perché l'Europa da questo punto di vista abbaia molto, però nella sostanza i Paesi fanno ancora tanto di quello che vogliono. Quindi se dobbiamo fare e avere un approccio medio ideologico a queste cose, bisogna anche sfatare alcune bufale che dicono che l'elettrico è l'unica cosa che l'Europa ha approvato, una direttiva per cui l'elettrico è l'unica cosa che dovrà andare bene per le nostre auto dal 2033 in poi, in realtà non è così, certo tecnologicamente non ci sono molte altre alternative, ma per essere corretti la cosa che è richiesta è avere emissioni zero dopo il 2000, che si può avere anche con altre tecnologie, anche se ovviamente l'elettrico è principale. Dobbiamo fare qualcosa, ragionevolmente, senza esagerare, aver portato al 2040 l'obiettivo di avere il 90% di riduzione delle emissioni mi sembra eccessivo però, mi sembra eccessivo come esempio. Bisogna tener conto di quali sono le caratteristiche dei nostri Paesi, rendere sostenibili le nostre case è più complicato di quello che può avvenire per Paesi dove c'è una case che non sono meno storiche delle nostre. Però, insomma, non cadiamo nell'errore opposto di dire che tanto chi se ne frega quel che conta è la produzione. Sì, conta la produzione, però contano anche i nostri polmoni. Grazie mille. Quindi trovare il punto di equilibrio tra la sostenibilità e... Posso dire un'ultima cosa che sto dimenticando? Ci sono esempi che funzionano, cioè di Paesi che sono riusciti ad avere crescita economica, un livello di reddito molto più alto del nostro e emissioni più basse. Sì, uno dice la Svezia. La Svezia è un Paese che ha un reddito pro capite molto più alto del nostro, consumi molto più alti del nostro, stanno pure al freddo e hanno emissioni pro capite di circa 3 tonnellate di CO2 all'anno. L'italiano, questo parlo di tonnellate, io quando ho visto il settativo di tonnellate, sì, sì, saranno chili, no, tonnellate. Un americano emette 15 tonnellate, è responsabile per 15 tonnellate di CO2 all'anno. In Svezia sono 3 tonnellate all'anno. Dove sta l'Italia? 5,5. Dove sta la Germania? 8. Queste cose mi fanno vedere che il livello del reddito non è poi così correlato, strettamente collegato al livello delle emissioni. In generale sì, ma è possibile avere livelli di emissioni molto più bassi della nostra, come nel caso della Svezia, con un reddito molto più alto del nostro. Quindi questo legame per cui tu non puoi crescere se non emettendo di più, beh, insomma, non è così vero se andiamo a vedere che ci sono casi virtuosi. Comeppure ci sono casi molto peggiori. Gli Stati Uniti sono, da questo punto di vista, tra i peggiori al mondo, 15 tonnellate pro capite. Cinque volte in più di uno svedese che come reddito pro capite è più o meno il reddito pro capite degli Stati Uniti. Anzi, forse un po' più alto. Certo, grazie. Prego. Certo, chiaramente dipende dall'assetto industriale di un paese, dalla struttura produttiva di un paese. È chiaro che in Europa la Germania è la prima manifattura, l'Italia è la seconda, l'inquinamento, insomma, di una struttura industriale del genere è particolarmente elevato. La Germania poi ha fatto delle scelte del tutto irrazionali. Spenderei un momento sulla Germania. Come sapete ha deciso l'abbandono definitivo del nucleare adesso, in fondo in questo spettro di energie il nucleare è un'energia che produce poche emissioni, è considerata un'energia pulita anche dalla cosiddetta tassonomia europea. La Germania ha preso ed è tornata ad usare il carbone, cosa assolutamente irrazionale, una follia, no? Il carbone invece è altamente inquinante, come sapete benissimo. La Germania è uno dei paesi che ha preso una botta terribile da questo nuovo contesto geopolitico che cercavamo di descrivere prima rapidamente, in particolare dalla guerra in Ucraina e cioè dalla perdita della Russia come grande supporto del sistema industriale tedesco. Perché il sistema industriale tedesco e il vero e proprio modello tedesco che poi è al cuore dell'Unione Europea si fondava su tre assiomi, su gas a bassissimo costo dalla Russia, 10 euro secondo accordi riservati fa Gazprom e governo tedesco, export in Cina, che oggi è reso più difficile dal declino relativo della domanda cinese e dalle tensioni Stati Uniti e Cina e difesa garantita dagli Stati Uniti, quindi non pagata dai tedeschi. Ora, tutte queste tre cose, e cioè il rifornimento di gas dalla Russia, le esportazioni in Cina che sono sempre decisive per la Germania, basti pensare al settore automobilistico e la difesa garantita dagli Stati Uniti, in modo diverso, sono in crisi. Quindi è in crisi il modello centrale dell'Europa continentale, questo significa un grosso problema per l'Europa e per l'Italia anche, perché noi, come sapete meglio di me, siamo in parte integrati nella struttura produttiva tedesca, facciamo parte di quella catena del valore. Due parole sul Green Deal. Green Deal è stato una specie di marchio di fabbrica con il Ministro, con il Commissario dell'Ambiente, Timmermans, della Commissione von der Leyen. Infatti a me fa veramente abbastanza sorridere il fatto che in due minuti si rinuncino a pezzi del Green Deal, perché c'è la protesta più che comprensibile degli agricoltori, ma che innesca una dinamica abbastanza distorta sui problemi ambientali, come alludeva Carlo, perché è chiaro un giorno ci sono gli agricoltori, perché l'agricoltura è un settore penalizzato ovviamente dal Green Deal, domani ci saranno gli esponenti del settore edilizio che avranno altrettanti problemi e dopo domani ci sarà il problema del settore automobilistico. Voglio dire che l'impianto del Green Deal, per come è stato concepito, è stato concepito un po' così. L'Unione Europea decide, naturalmente con l'accordo del Consiglio dei Ministri, è un'Europa in parte intergovernativa, in parte federale, come sapete, uno strano animale, dice Giuliano Amato per descrivere questo accrocco, comunque l'Unione Europea fissa queste date, un po' come un piano quinquennale sovietico, nel 2035 via tutti i motori termici. Ma poi i costi ricadono sui governi nazionali, ricadono sui cittadini e sulle imprese nazionali. Quindi la cosa che si sarebbe dovuta fare, e che molti hanno detto che si doveva fare, era di creare una capacità di investimento europea, un Just Transition Fund, un fondo per una transizione giusta, che permettesse di creare delle compensazioni, cioè di non lasciare questi oneri così violenti sui produttori e gli individui europei. Ma questo non è stato fatto, cioè credo che il problema generale dell'Europa, in tutti i campi possibili e immaginabili, sia che non ci sia un investimento sufficiente di risorse comuni per conseguire una serie di obiettivi assolutamente cruciali. È la mancanza dei famosi euro bonds, se volete, di una capacità fiscale centrale che ogni tanto emerge come un fiume carsico. Di fronte al Covid assi scopriamo che abbiamo bisogno del Next Generation EU. Però poi se ne va di nuovo, perché c'è questa famosa sfiducia fra i Paesi fiscali che si considerano molto più virtuosi come la Germania e i Paesi considerati dall'assist, è una grande frattura in Europa che non si è mai ricomposta davvero. Quindi per me il problema dell'Europa in questa fase storica è che tu prendi delle decisioni sul piano europeo, i costi sono invece nazionali, alla fine manca una capacità fiscale centrale che sarebbe assolutamente decisiva per giocare allo stesso gioco a cui giocano gli altri, gli americani e i cinesi. E quindi alla fine sono pessimista. Se non riusciamo ad aggredire il problema lì e cioè a decidere che l'Europa ha bisogno di risorse comuni importanti per investire in tutti i progetti che ha e nel recupero di competitività, io credo che alla fine questo meccanismo si spezzerà, perché per ora l'Europa è stata pensata come un organismo da bel tempo. Erano finite le due guerre, si cominciava un progetto di pace, l'Europa era il modo più intelligente per vivere il dopo guerra e per far ripartire l'Europa su basi nuove, ma con il bel tempo. Quando il tempo ha cominciato a essere brutto, e cioè fondamentalmente in questa età delle policrisi, prima la crisi finanziaria, poi il Covid, poi la guerra in Ucraina, oggi la guerra in Medio Oriente, l'Europa non è adatta. L'Europa che abbiamo oggi deve aggiungere delle cose, perché se no passerà solamente di crisi in crisi. Ora, è vero quello che diceva Jean Monnet di Europa si fa attraverso le crisi, ma qua le crisi cominciano a diventare troppe e secondo me una struttura solo emergenziale alla lunga non può reggere. Quindi io credo che chi ci tiene all'Europa deve proporre una ristrutturazione abbastanza profonda del modo in cui l'Europa funziona, al cui centro io metterei una capacità fiscale vera che permette all'Europa di restare competitiva. Grazie. In effetti aggiungo sull'automotive, è stata la tempesta perfetta, si sono unite i sensi di colpa della Germania col Dieselgate, un'azione troppo frettolosa, troppo univoca, che è andata a dare il monopolio sostanzialmente del settore ai cinesi, perché diceva giustamente il professor Cottarelli, non è che bisogna virare verso l'elettrico nel 2035, però è l'unica soluzione industrialmente plausibile in questo momento, ben più dell'idrogeno e più il cell, e lo strano animale ha partorito un brutto anatroccolo. Ecco, questo strano animale però fatica a trovare unità sotto molti punti di vista. Proviamo ad affrontarne un paio, ce n'è uno di cui ha parlato Marta D'Assù, mi sembra, sul Repubblico una settimana fa, il tema della difesa unica, e rilanciato anche da un suo tweet pochi giorni fa. Abbiamo parlato di un mondo frammentato, di un mondo difficile, di un mondo del cambiamento, è un mondo pieno di guerra, è anche questo qui. Negli ultimi due anni l'Ucraina ci ha portato alla guerra vicino ai confini dell'Europa, una cosa che praticamente nessuno di noi aveva vissuto, e lasciamo perdere il Medio Oriente che è una polveriera, Taiwan che è stata citata prima che potenzialmente è un'altra, e purtroppo non finisce qui. L'Europa, è stato detto, avrebbe bisogno di una difesa comune. Penso non solo in termini militari, ma anche di industria militare, perché noi spendiamo un mucchio di soldi nell'industria bellica per la difesa, ma li spendiamo ognuno per i fatti soli, quindi con dei doppioni, con delle risorse sprecate. C'è speranza? Dipende, al di là di essere ottimisti o pessimisti personalmente, dipende da noi quello che vogliamo fare. Per questo dicevo che le prossime elezioni sono fondamentali. Io sono d'accordissimo sul fatto che l'Europa è un'Europa senza soldi. Questa è la verità. Vengono prese decisioni a livello di Parlamento europeo, quindi votate democraticamente. Non è che sono i burocrati della Commissione che decidono sulle direttive. Queste vengono approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo, cioè dai governi dei paesi. C'è questa strana cosa, questo animale per cui c'è un Parlamento e i governi decidono nello modo, ma tutto viene passato democraticamente. Viene passato democraticamente lasciando poi l'implementazione ai singoli paesi con le loro risorse perché il bilancio europeo è davvero piccolo. Il bilancio europeo sul lato della spesa e dal lato delle entrate vale l'1% del PIL europeo. Il bilancio italiano, tanto per fare riferimento, vale il 50% del PIL italiano. Ma se non andiamo a prendere l'Italia, perché questo è un bilancio... Però non lo vuoi tagliare. Perché volevo tagliare le tasse, dare più soldi a tutti voi. Comunque, chiudendo questa parentesi, il 50% del PIL della spesa pubblica italiana è tanto, ma se anche andiamo a prendere il bilancio di uno Stato federale, perché lo Stato italiano è uno Stato unitario, andiamo a prendere il bilancio di uno Stato federale, anche lo Stato federale più decentrato, come il Canada. Questo rappresenta il 20-25% del PIL canadese. Il bilancio europeo, ripeto, è l'1%, quindi non ha risorse. Serve creare una fiscal capacity intesa in due sensi. Uno è quello di aumentare le entrate proprie, la tassazione propria, i poteri di tassazione dell'Europa, riducendo ovviamente quelli degli Stati nazionali, perché non vogliamo aumentare la pressione complessiva delle tasse in Europa, che è già abbastanza alta, più alta degli Stati Uniti. Questa è una necessità. L'altra è quella di avere gli euro bonds. Io poi, figurato, sono Carlo Cottarelli, non vedo la capacità di spendere come necessariamente legata all'indebitamento, perché si possono anche fare cose in comune aumentando la tassazione, riducendola a livello nazionale. Però è chiaro che ci vuole un bilancio europeo sul lato della spesa e sul lato delle entrate che sia molto più grosso di quello attuale. Quando venne in mente a qualcuno di fare l'euro, idea che io continuo a pensare buona, quando venne in mente a qualcuno di fare l'euro, venne commissionato un rapporto al signor MacDougall, che credo fosse inglese, non lo so. C'è questo MacDougall report che scrisse che per far funzionare bene un'area monetaria non c'era bisogno di un bilancio centrale, ma che un'area monetaria avrebbe funzionato meglio se ci fosse stato un bilancio centrale di dimensione almeno del 7-8% del PIL e, se si includeva la difesa, anche del 10% del PIL. Allora è chiaro che noi dobbiamo andare in quella direzione, se vogliamo che il mercato europeo funzioni meglio, se vogliamo che l'area dell'euro funzioni meglio, perché al momento le politiche macroeconomiche sono invece quasi completamente decentrate e poi ci sono più paesi che hanno possibilità, più facilità di prendere a prestito soldi di altri che in congiunture economiche negative riescono ad andare avanti meglio le cose. Nel caso del Covid ha pensato alla Banca Centrale Europea a eliminare queste disparità, però non si può sempre contare sulla Banca Centrale Europea anche perché poi abbiamo visto che le conseguenze inflazionistiche ci sono state al di là di un po' di polemiche su cos'è che ha causato l'inflazione. I paesi del mondo hanno usato politiche molto espansive stampando una marea di soldi e hanno un po' esagerato. La domanda è cresciuta un po' troppo rispetto alla possibilità di ripresa dell'economia mondiale e questo ha creato inflazione. Ma chiuso questa parentesi, chiaramente noi non possiamo contare sempre sulla Banca Centrale che comunque è indipendente. Ci vuole una fiscal capacity, una capacità di prendere a prestito soldi e di tassare che adesso il bilancio dell'Unione Europea non ha. Il bilancio dell'Unione Europea non è soltanto piccolo, è obbligato a essere sempre in pareggio. L'Europa non è uno Stato federale, ma nessuno Stato federale, nessuna area economica comune non può andare in deficit per definizione. Quindi sì, c'è bisogno di Euroboard, però c'è anche bisogno di una capacità fiscale che poi consenta, anche se si va in deficit, di ripagare quegli Euroboard nel lungo periodo. Ultima cosa, la difesa. Molti di voi saprete, altri non lo sanno, che prima ancora che ci fosse il mercato unico europeo, prima ancora che ci fosse la comunità economica del carbone e dell'acciaio, nel 1952 sei governi, quelli poi fondatori dell'Unione Europea, cioè Germania, Francia, Italia e i tre paesi del Benelux, raggiunsero un accordo per avere un esercito europeo, finanziato da un bilancio europeo e c'erano addirittura i dettagli sulle procedure di bilancio che dovevano essere seguiti ogni anno. Questo accordo non fu ratificato dal Parlamento francese e forse dopo 70 anni è ora di andare avanti un po' di più su quest'area che fra l'altro, lei ha accennato questo, farebbe anche, mi rimetto il cappello di commissario per la revisione della spesa, si risparmierebbero anche un po' di soldi facendo le cose in comune. Sì, posso aggiungere sulla difesa? Sì, perché in realtà non è che spendiamo poco, se consideriamo la spesa aggregata di tutti i paesi europei, spendiamo tre volte di più di quello che spende la Russia, ad esempio, 350 miliardi di euro all'anno e ci siamo impegnati a spenderne ancora di più, ma spendiamo male, nel senso che molto più che negli Stati Uniti abbiamo una serie impressionante di duplicazioni industriali, cioè ogni industria della difesa risponde come committente al proprio governo nazionale e questo fa sì che abbiamo 27 tipi di carri armati, mentre in America ce ne sono due, abbiamo il caccia del futuro disparato, già diviso in tre, che sono cose che costano moltissimo, quindi effettivamente senza dei progetti veri di cooperazione europea e senza soprattutto un sistema di, gli inglesi lo chiamano procurement, cioè ci deve essere una domanda congiunta per cui l'Europa sa di poter contare su quel carro che è prodotto insieme dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia e non su 27 carri, eccetera, eccetera. Senza queste cose qua la difesa europea sarà inefficiente. Questo è un problema perché? Primo perché ormai la guerra c'è. Noi siamo culturalmente cresciuti, le ultime generazioni europee, sull'idea che una guerra territoriale non ci coinvolgesse più. Purtroppo non è così e in effetti si è riaperto un dibattito che è interessante, anche se sembra antistorico, sulla dimensione delle nostre forze armate, perché il passaggio dal sistema di DEVA all'esercito professionale fa sì che abbiamo pochi soldati e quindi di fronte alle lezioni, fra virgolette, della guerra in Ucraina si è riaperta questa discussione su quanti soldati abbiamo bisogno, di quale qualità abbiamo bisogno, eccetera. Secondo, oltre a questo salto culturale che purtroppo dobbiamo fare, cioè la capacità di ripensare alla sicurezza e alla difesa come uno dei compiti degli Stati contemporanei e non solo come una cosa del passato, c'è il problema dell'America. In fondo noi abbiamo vissuto un periodo buono di sviluppo economico nel dopoguerra anche grazie al fatto che la difesa ci veniva sostanzialmente pagata dagli Stati Uniti. Ora questo non può più essere dato completamente per scontato. Joe Biden, Sleepy Joe con tutte le sue gaffe e l'aria di avere un Parkinson spinto, comunque crede nelle alleanze. Se volete è l'ultimo di una generazione americana che ha visto nel rapporto Stati Uniti-Europa un asset fondamentale, un punto di vantaggio fondamentale del sistema internazionale. Trump no. Trump ritiene che gli europei ne approfittino e che non ci sia nessuna ragione, secondo Trump, per cui gli Stati Uniti debbano continuare a funzionare da gendarme del mondo, per dirla brevemente, cioè a sostenere tutti gli oneri del sistema internazionale. E quindi in un futuro non sappiamo, sappiamo solo che comunque dobbiamo aumentare il contributo europeo alla Nato perché sennò la Nato a lungo non reggerà. Questa è la mia convinzione di fondo. E per farlo ci vuole una scala europea che è una forma di razionalizzazione e di risparmio di spese che comunque sono alte ma sono fatte male. Quindi dobbiamo spendere quello che spendiamo oggi fondamentalmente, ma molto meglio, e dobbiamo metterci in una visione strategica che contempli la possibilità di avere a che fare con dei conflitti che credevamo morti e sepolti. In questo dibattito poi assumerà un ruolo, ma adesso è anche una cosa troppo tecnica e noiosa, ma la deterrenza nucleare. Ci sono due paesi in Europa, la Francia e la Gran Bretagna, che hanno delle capacità di dissuasione nucleare importanti, ma sono uno, un paese che, come diceva Carlo, ha assicurato varie volte la difesa europea perché pensa che la difesa europea debba essere in realtà la difesa francese in largo. E c'è un altro paese, la Gran Bretagna, che ha lasciato, come sapete, l'Unione Europea, ma con cui dobbiamo ricostruire un rapporto di sicurezza per essere credibili. Quindi è un problema complicato, ma anche estremamente semplice, se volete. Siamo nell'età della insicurezza, dell'incertezza. Abbiamo una guerra praticamente in Europa, è un'altra ai confini meridionali dell'Europa. Non possiamo resistere e competere senza avere una vera sicurezza. In fondo solo gli europei possono decidere di darsi. Grazie. Del resto, adesso parlavamo della Francia, le divisioni di questo continente sono secolari, ce le portiamo dietro. Come ci portiamo dietro, stratificazioni culturali che rendono molto difficile arrivare a quella razionalizzazione di cui si parlava e aggiungo anche maggiore monetarietà fiscale, perché ci permettiamo di avere dei paradisi fiscali in Europa, non possiamo andare molto lontano. Già evocato più volte il nome di Trump, mi suggerisce la prossima domanda. 2024 votiamo sia in Europa, elezioni che spesso in questo Paese abbiamo snobbato, sia negli Stati Uniti. Mi pare di capire che riteniate entrambi che il voto più importante sarà quello oltre atlantico. Però vi chiedo, quanto cambierà dal voto degli Stati Uniti se vincesse Trump e cosa può cambiare dal voto europeo? Non so bene cosa dire, ci devo pensare. Naturalmente non sappiamo come andranno le elezioni del 5 novembre negli Stati Uniti. La prospettiva che non piace agli americani, perché poi l'assurdo è quello, perché tutti i sondaggi ci dicono che questo rematch, se da rigiocano due vecchioni, Trump e Biden, non piace alla grande maggioranza degli americani. Ed è un fallimento del sistema politico americano, quello che il Partito Democratico non riesca a esprimere un candidato di nuova generazione, perché il Presidente è in carica comunque... Anche quello repubblicano. Puove correre. E che il Partito Repubblicano è più grave, cioè hai un Presidente con 91 capi di imputazione che pensa però che in virtù della Costituzione, in virtù della sua capacità di rallentare tutti questi processi, riuscirà comunque a essere eletto. Quindi è una competizione veramente strana, in un certo senso, ma il dato vero è che l'America è l'esempio di quella che gli esperti chiamano la recessione democratica, cioè un problema che vivono tutte le democrazie liberali e che è data da una misura senza precedenti di polarizzazione interna. Lo sappiamo benissimo. Non siamo più degli stati nazionali, siamo delle tribù di tifosi l'un contro l'altro armati, cosa che dipende da un mucchio di ragioni che adesso è veramente troppo lungo esaminare, ma la città e la campagna, le persone con la laurea e quelle che non ce l'hanno, eccetera, l'effetto dei media, i media che ti spingono non a cercare l'opinione diversa, ma ti spingono in quello che è stato definito la voglia di conferma, cioè siamo delle tribù fondamentalmente. Io non vado a cercare su internet qualcuno che mi dice, guarda che stai sbagliando tutto, la verità è un'altra, vado a cercare qualcuno che mi conferma nella mia propria opinione. A furia di fare così abbiamo dei paesi spaccati come una mela e l'America è il grado estremo di questa polarizzazione. Questo, dico solo una parola sull'Europa, l'Europa si è invece sempre retta su un baricentro, cioè l'Europa comunitaria si basa sull'alleanza delle grandi forze politiche che garantisce una misura di consenso. Ora bisogna vedere se questo meccanismo reggerà, perché le elezioni del giugno 2024 da questo punto di vista saranno importanti. In un certo senso la gente va a votare, come sappiamo benissimo, va a votare 27 elezioni nazionali, cioè noi quando andiamo a votare per le elezioni europee è difficile che votiamo veramente sul progetto europeo, tendiamo a votare per Giorgia Meloni o contro Giorgia Meloni fondamentalmente, per Eliflein o contro Eliflein. Questo è sbagliato perché poi alla fine il risultato complessivo sarà molto importante per vedere se quel perno dell'Europa che era tradizionalmente basato sul Partito Popolare, che rimarrà molto probabilmente il Partito Maggiore e sui socialisti, verdi, liberali o come diavolo si chiamano, reggerà abbastanza o se riuscirà la destra nelle sue varie incarnazioni ad avere abbastanza peso per pretendere almeno una alleanza allargata, dilattata o addirittura per creare un'alleanza tra il Partito Popolare e questi gruppi di dei. Se da questo punto di vista il caso italiano sarà molto importante, sarà molto rilevante perché il ruolo della Presidente del Consiglio in questa vicenda è veramente importante. Per esempio se Orban, avete visto tutta la vicenda dei fondi all'Ucraina, decidesse di entrare nel gruppo della Meloni invece che in quello in cui sta Salvini sono gruppi diversi, questo darebbe a Giorgia Meloni una forza in più per poter fare quello che lei sembra di voler fare, cioè tutto sommato giocarsi la sua partita nella nuova maggioranza europea, non contro o fuori dalla nuova maggioranza, mentre Salvini probabilmente ne sta volentieri al di fuori. Quindi è un gioco molto delicato, molto importante e questo ci spingerebbe secondo me a decidere, prima di andare a votare, perché il tasso di astensionismo in Italia è sempre diventato negli anni alto, e secondo di andare a votare avendo in mente non solo le vicende di casa nostra, ma anche questo problema del futuro europeo che poi ci scrive le direttive, regolamenti, eccetera, eccetera. No, questo, ripeto un po' quello che ho detto prima, che davvero si tratta queste elezioni europee di una scelta tra due visioni diverse di che cos'è che deve diventare l'Europa. Ripeto, le due visioni sono quella di l'Europa delle nazioni, in cui si fanno insieme alcune cose quando conviene farle, compriamo i vaccini insieme, si fa, però tendenzialmente non c'è un progetto unitario, neanche di lungo periodo, e invece quelli che pensano che credo fosse l'idea iniziale dei padri fondatori della comunità economica europea, del mercato comune europeo, di tutte queste cose che sono venute, cioè di avere tendenzialmente, muoverci tendenzialmente verso un'Europa in cui, sì, siamo ancora italiani, però siamo europei prima di tutto, perché abbiamo dei valori europei da condividere. Certo, ci siamo combattuti per duemila anni dalla pace augustea, poi è stata una guerra dopo l'altra, però dobbiamo forse superare questa cosa. Guardate che queste due diverse visioni di chi vuole un'Europa più unita e chi vuole l'Europa delle nazioni, queste due diverse visioni persistono fin dall'inizio. Adesso vi leggo una cosa per dimostrare questo. Da un lato c'era il manifesto di Ventotene, ispirato da un'idea di unità, basta farci guerra e dobbiamo sentirci europei. E pochi anni dopo, invece, qualcun altro disse queste parole. La costituzione di una comunità europea è auspicabile e forse anche possibile, ma tengo a dichiarare in forma esplicita che noi non ci sentiamo italiani in quanto europei, ma ci sentiamo europei in quanto italiani. Prima ci dobbiamo sentire soprattutto italiani. La distinzione continua. Non è sottile, ma fondamentale. Come la nazione è la risultante di milioni di famiglie che hanno una fisionomia propria, anche se posseggono il comune denominatore nazionale, così nella comunità europea ogni nazione dovrebbe entrare come un'entità ben definita, onde evitare che la comunità stessa naufighi nell'internazionalismo di marca socialista. Chi è che ha scritto questa cosa? Questo è l'ultimo discorso pronunciato da Benito Mussolini il 16 dicembre 1944. Il discorso del lirico. Ora, non dico che questo potrebbe averlo scritto Meloni o Salvini, eccetera, in un mondo completamente diverso. Però questo per dirvi che quest'idea dell'Europa delle nazioni è tipica del nazionalismo, che di per sé non è una cosa negativa o meno. Il nazionalismo è una nobilissima tendenza politica, soltanto che non è la mia tendenza politica, soprattutto se la rifletto nella situazione in cui certo noi dobbiamo sentirsi nazionalisti, ma se l'Europa vuole contare qualcosa nel mondo noi dobbiamo sentirci nazionalisti europei, difendere i valori europei rispetto a quelli del resto del mondo. E questa è la scelta che si farà nelle prossime elezioni europee, che sono d'accordissimo. Dobbiamo superare il fatto che stiamo votando per Lischlein o per Meloni o per Salvini. Dobbiamo votare a elezioni europee e dobbiamo concentrarle sui temi europei. Vogliamo un'Europa più forte, vogliamo un bilancio europeo che possa fare effettivamente qualcosa. Io credo che sia necessario fare qualcosa, altrimenti andremo avanti con queste cose. Per cui l'Europa, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo vota cose che poi rimangono irrealizzabili perché tanti soldi rimangono in una casa propria. Grazie. Io credo che ci si mettano spesso anche i politici di merito. Sì, merita un applauso. Grazie alla signora. Credo che purtroppo la nostra politica sia bravissima nel orientare invece anche il voto europeo sulle beghi interne. Purtroppo lo si fa da molto tempo. Abbiamo passato abbonantemente l'ora che è volata via in maniera molto piacevole. Io vorrei concludere partendo dal sottotitolo di questo incontro. Si parla di chimere e di nostalgia. Perché? Perché chimere è il titolo dell'ultimo finora, ma credo che tra poco ce ne arriverà un altro, lo attendo con ansia, è l'ultimo libro di Carlo Cotarelli, Chimere. Racconta sette chimere del mondo economico in maniera estremamente chiara. Può leggerlo chiunque affrontando temi fondamentali del nostro mondo. E nostalgia invece parliamo di un tema più politico che affrontiamo quando le parò la domanda a Marta D'Assù, subito dopo. Di queste sette chimere ovviamente non possiamo parlare di tutte, ma visto che abbiamo accennato all'intelligenza artificiale, credo che valga la pena fare un altro passaggio. Nasce veramente come, soprattutto diciamo in termini economici parliamo, non tanto con implicazioni morali che può avere l'intelligenza artificiale. È semplicemente un'evoluzione di quelle che sono state le rivoluzioni che si sono succedute nel tempo, dalla ruota alla rivoluzione industriale, alla scoperta dell'energia elettrica, eccetera. O ci troviamo di fronte a qualcosa che ci deve spaventare un po' di più? Economicamente. Economicamente. No, io sono del parere che questa è una continuazione di una cosa che c'è sempre stata. E la cosa sorprendente, torno a ripetere, è che tutti questi cambiamenti tecnologici e legati all'information and communication technology, cioè la tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Cioè i computers, l'informatica, la digitalizzazione, la robotica e adesso l'internet, l'intelligenza artificiale. Per ora, negli ultimi 25 anni, hanno prodotto risultati molto inferiori sia a quello che ci si attendeva, sia a quello sviluppo che abbiamo avuto a cavallo tra il XIX e l'inizio del XX secolo, quando il mondo è stato davvero trasformato. Se io penso a com'è cambiata la mia vita negli ultimi 40 anni, sì è cambiato, però fondamentalmente io mi sveglio al mattino, faccio tutte cose per cui la tecnologia esisteva già 40 anni fa, più o meno. Mi sveglio al mattino, mi sveglia il cellulare, prima era una sveglia elettronica 40 anni fa, non è che cambiasse molto. Mi alzo, apro il frigorifero che già c'era 40 anni fa, mi scaldo il latte con il pornello elettrico o a gas che già c'erano 40 anni fa, accendo la televisione e già c'era, o la radio già c'era 40 anni fa. Ho un po' più di canali, questo bisogna ammettere, non c'è dubbio. Faccio la barba con un ragione elettrico che già c'era 40 anni fa, esco di casa, prendo l'ascensore e già c'era 40 anni fa, poi esco, guido una bicicletta, una motocicletta, un'automobile e già c'erano, prendo l'aero e già c'era 40 anni fa. Ora, sto esagerando, è ovvio che c'è stato un enorme cambiamento, abbiamo il cellulare, abbiamo tante altre cose, però in confronto alla rivoluzione tecnologica che è avvenuta per uno nato nel 1890, questa cosa che stiamo vivendo è in fondo molto più contenuta, per ora, poi arrivo per ora. E se la seconda rivoluzione industriale, che ha comportato un enorme aumento della produttività, un enorme cambiamento dei lavori che erano a disposizione, pensate a quelli che facevano i ferri da cavallo, sono dovuti diventare meccanici, un cambiamento quindi dei lavori, se abbiamo superato quella seconda rivoluzione industriale, io credo che riusciremo a superare anche questa terza rivoluzione industriale legata all'intelligenza artificiale, con un unico camera, che l'intelligenza artificiale, ci viene detto, è davvero qualcosa di trasformativo, sono le macchine che creano, diciamo, mettiamolo in questi termini, e quindi potremmo essere alle soglie di una rivoluzione industriale, con effetti sulla produttività e quindi sulla domanda di lavoro, sulla distribuzione del reddito, su tutte queste cose che ancora neanche ci immaginiamo. Sta per avvenire, siamo alle soglie. Io non so, non posso sapere se questo lo dovremo, lo scopriremo solo vivendo, citando Mogolmet all'inizio del libro. Però, dico una cosa, io questa storia l'ho già sentita. L'ho sentita quando cominciarono a diffondersi i primi personal computers. E non lo dico io, lo dice Robert Solo, premio Nobel dell'economia, che nel 1987 scrisse un articolo sul New York Times dicendo io vedo computers dappertutto, tranne che nei dati della produttività. Gli venne risposto è vero, ma siamo in una fase ancora, siamo nella fase finale di un periodo di incubazione e fra poco ci sarà un'esplosione di produttività, con tutti i problemi che derivano per esempio per la disponibilità di forse di lavoro, che sta per avvenire e che poi però non si è verificata. Quindi io metterei un punto di domanda alla fine di questa cosa. L'intelligenza artificiale non è nuovissima, sono decenni comunque che i computer sbattono il campione mondiale di scacchi per fare un esempio. Però insomma adesso siamo molto impressionati dal fatto che parli con chat GPT e quello ti dà delle risposte molto sensate. Quello a pagamento, perché chat GPT gratis secondo me è una fregatura enorme, ti conta un mucchio di palle, ci devi mettere un po' di soldi e allora c'è quello a pagamento che è un po' più intelligente. E' possibile che stia cambiando tutto, però ancora non vediamo nei dati della produttività. Ultimissima cosa, la crescita economica degli Stati Uniti negli ultimi anni è stata accompagnata da una crescita molto forte dell'occupazione, del numero di persone che sono occupate, non della produttività che appunto sta rallentando rispetto al passato. Grazie mille. Vi consiglio davvero quel capitolo estremamente interessante, tra l'altro con quattro scenari ipotizzati, tutti interessanti. Sì, la cosa che fa paura, scusami se posso, è questo cosiddetto LLM, il fatto che questa intelligenza artificiale generativa ha in qualche modo la capacità di mutuare il nostro linguaggio. E su questo ci sono veramente, come al solito, peraltro due scuole di pensiero, quella sdrammatizzante appunto di Carlo che è molto condivisa, ma anche quella drammatizzante. Per esempio un grande intellettuale come Harari sostiene che con questo hackeraggio di quello che è proprio il software della nostra civiltà, il linguaggio, la democrazia è destinata ad avere dei grossi rischi perché riesce a condizionare quello che pensa la gente, riesce a fare il riconoscimento facciale e quindi a sorvegliare le persone molto più attivamente Io parlavo solo dell'economia, infatti l'ho specificato. Sì, no, no, infatti non parlo dell'economia perché è il tuo terreno, parlo del mio, che è molto più politologico o politico. Per cui, per esempio, l'Unione Europea ha appena fatto uno dei suoi molti regolamenti distinguendo le applicazioni nel mercato unico dell'intelligenza artificiale fra rischiosissime che quindi verranno pietate, rischiose che quindi verranno regolamentate o invece ok, va bene così. Quindi il problema indubbiamente c'è e la paura è un po' sempre la stessa, da sempre, e cioè che l'uomo perda il controllo su quello che ha creato. È l'idea della perdita di controllo quello che davvero ci preoccupa e su cui ci sono le due scuole di pensiero, ma io su questo la penso come Carlo. Secondo me è la solita vecchia paura di fronte al cambiamento tecnologico che ci sia qualche cosa che ti faccia perdere la tua capacità di essere al centro dell'universo che conosciamo. E quando al centro invece c'è una macchina che pensa da sola e che può anche pensare di distruggerci, di distruggerti entri nello scenario ruagliano. Però sono la regolamentazione necessaria, per esempio Kissinger, che è morto da poco, pensava che su queste cose ci voglia un sistema come controllo degli armamenti sulle armi nucleari, cioè dovremmo avere un grosso accordo internazionale sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Speriamo che siamo in grado di raggiungerlo. Comunque io credo che in questi casi, come dicono gli ingegneri, spegni, riaccendi, risolva la maggior parte delle cose. Avevo promesso una domanda sulla nostalgia, brevissima l'ultima. Perché nostalgia? È tale nostalgia, un libro che trovate anche qui fuori, come quelli di Carlo Cottarelli, che di sale mi sembra 3-4 anni fa. Nasceva... Nostalgia non è un romanzo romantico. Nostalgia è un ritorno di certi nazionalismi, un ritorno di una semplificazione dei problemi, di un passato a volte anche glorioso. E questo libro nasceva direi soprattutto sulla... Sulla Brexit. Esatto, dalla Brexit e da Trump. È passato qualche anno, io temo che le cose possano essere peggiorari. La nostalgia, come era intesa in quel libro, che era appunto nato con un libro sulla Brexit, era l'idea che in fondo è abbastanza istintivo dire, di fronte a questi cambiamenti continui che abbiamo cercato di descrivere, è abbastanza naturale dire base su stufo. Per favore bloccate questa cosa, no? E quindi l'idea di poterti rinchiudere dentro i tuoi vecchi stili di vita o il tuo vecchio confine nazionale. È stata un po' la pantomima della Brexit. Cioè l'idea che fosse l'idraulico polacco a mettere in crisi il sistema economico britannico o l'idea che l'Inghilterra fuori dall'Unione Europea sarebbe tornata a essere un grande impero del futuro. Non è così naturalmente, lo abbiamo visto. Quindi nostalgia in quel senso è abbastanza negativo secondo me. Poi naturalmente invece c'è un senso positivo della parola nostalgia che è in fondo la nostra capacità di ricordare, di riannodare i fili della nostra vita, non per volerci a tutti i costi mettere a piedi duri nel passato, ma anche per riuscire ad affrontare il futuro con delle radici un po' più solide. Quindi la nostalgia in fondo ci serve quando non viene usata e misusata politicamente a scopi politici. Ci fa stare meglio tutto sommato e ci prepara ad affrontare quel mondo molto complicato che verrà. È da un mondo complicato. Siamo partiti. e sul mondo complicato chiudiamo. Io ringrazio moltissimo Marta Dassù e Carlo Cottarelli, ringrazio il Comune per l'iniziativa, vi invito a seguire i prossimi appuntamenti di Caleidoscopio e ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti, intervengo un attimo perché gli spunti di riflessione sono tanti. Se volete magari approfondirli, visto che siete numerosi e mi siete parsi molto attenti, fuori ci sono dei volumi in vendita di tutti e due gli autori e se volete poi magari c'è un firma coppie e volentieri ci fermiamo ancora un attimo. Grazie a tutti e alla prossima iniziativa. Grazie a tutti.